salve a tutti amici ben ritrovati come vedete sono andato a prenotare the last of us la collector edition a 49 99 però io mi sono accorto di una cosa ho chiesto anche alla commessa mi ha detto che poi comunque guardano loro sui codici però io vedo qua uno sconto di 20 euro cioè praticamente io non comprerei la collector ma solo il gioco il gioco nella promozione 29 99 ma io gli ho detto voglio la collector e me l'ha dato a 49 99 con 20 euro di sconto su peso la collector costa 100 cosa fanno se qualcuno ha qualche informazione in più se hanno sbagliato spero di no perché sono di butto giù il negozio mi so più a dire qualcosa scrivete nei commenti grazie ci vediamo nel prossimo video